Prima cooperativa di costruzioni in Europa, la CMC di Ravenna continua ad essere leader del mercato dell'edilizia nonostante la crisi generale del settore. L'Assemblea dei Socii ha approvato all'unanimità il bilancio che risulta positivo, come conferma il presidente Alfredo Fioretti, che festeggia il primo anno di conduzione della società cooperativa. Oltre il 75% del fatturato viene dalle commesse all'estero. L'Assemblea di bilancio è andata molto bene, abbiamo approvato il bilancio di esercizio al 31-12-2017 e nonostante un contesto economico, un contesto di mercato molto difficile, la CMC ottiene dei risultati ragguardevoli. Il fatturato aumenta, siamo a un portafoglio di 3,7 miliardi di euro, oltre il 75% del nostro fatturato viene fatto all'estero come conseguenza naturale di un mercato italiano in difficoltà e in calo. Gli utili aumentano rispetto al 2016 perché passano da 10 milioni a 14 milioni e anche l'Ebidda migliora perché passa da 151 milioni a 171 milioni. Anche il margine operativo lordo migliora oggi a 80 milioni e la nostra Assemblea ha approvato un bilancio che rispetto all'anno precedente dà segnali di miglioramento.